sei frasi che fanno ribollire il sangue dei narcisisti assicurati di sorridere mentre le dici allora se vuoi colpire e affondare i narcisisti puoi usare sei frasi sei frasi che li fanno ribollire il sangue sei frasi che li colpiscono profondamente e ti consiglio di usarle perché svelerai diciamo così veramente il narcisista ti renderai conto veramente del fatto che i narcisisti sono animali che devono essere come dire messi nei recinti insomma devono essere ingabbiati sono un po animali feroci belve feroci con tutto il rispetto ovviamente per gli animali e allora quali sono le cose che devi fare com'è che devi colpire un narcisista cos'è cos'è che devi dire cos'è che devi fare come devi comportarti quali sono le strategie migliori per ottenere tutti i risultati che ti meriti con i narcisisti allora bene ci sono diverse cose che devi fare la prima cosa diverse frasi sei frasi la prima cosa una frase che il narcisista non toller che suggerisco di dirgli è ti sbagli ti sbagli il narcisista quando dice ti sbagli inizia a ribollire inizia ad andare in ebollizione inizia a non connettere più è una frase che ti suggerisco di utilizzare di utilizzare più possibile perché veramente come dire la criptonite per il narcisista è veramente un qualcosa che l'offerisce l'offerisce fortemente ti suggerisco di usarla perché è una frase che che è molto 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 valida ti sbagli ecco quindi un'altra frase la seconda frase da dire al narcisista quando ti parla valla non ti credo non ti credo assolutamente ecco questa è un'altra pugnalata lo stomaco per il narcisista che lo colpisce che lo ferisce che lo distrugge tra virgolette ed è molto importante da usare questa frase un'altra frase che ti suggerisco veramente perché molto 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 utile per far sì che i narcisisti subiscano delle gravi perdite diciamo da questo punto di vista molto importante una frase che ti suggerisco usala perché è veramente fantastica e poi un'altra è non mi fido di te quindi non ti dico nulla non posso confidare con te non mi fido ecco la terza frase questa è il non mi fido è per il narcisista un qualcosa che lo distrugge fondamentalmente perché non riesce a comprendere non riesce a connettere come mai come perché tutto l'apparato diciamo manipolativo che il narcisista cerca di mettere in atto cerca di porre in essere è proprio legato al fatto di riuscire a come dire a colpire a diciamo a creare a sperare di creare diciamo così patos negli altri spera di far sì che le altre persone restino coinvolte che le altre persone si fidino questo è quello che che fanno nella cosa che anelano maggiormente no ottenere la fiducia delle altre persone ecco quindi se tu gli dici semplicemente guarda che io non mi fido di te non mi fido non mi fido assolutamente questo lo manda in palla lo mandi in bestia lo dire lo mette capo mette capo il narcisista quindi il nome fido è quello che ti suggerisco di utilizzare perché la frase che più di tutte distrugge completamente il narcisista usa la usa la spesso è veramente una frase pazzesca è veramente una frase micidiale per far sì che il narcisista resti ferito resti colpito ti suggerisco veramente di usarla il più possibile lo manda in veramente in palla lo manda veramente in tilt è un'altra frase che veramente un affronto per il narcisista che gli fa ribollire il sangue perché come dire certifica quello che lui teme e che invece vorrebbe più evitare di tutti e dirgli sei un perdente sei un perdente questo sei un perdente lo dirlo sempre col sorriso ma tu sei un perdente lascia perdere dirlo sempre col sorriso sulle labbra perché diciamo così in modo tale che con questa tecnica del coca infanni gli fai passare diciamo come dire fai passare tutto quello che vuoi far passare sei un perdente ah no ma dai tu sei un perdente figurati un po se uno come te vale qualcosa no 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 ma tu sei un perdente non vale niente ecco questo lo ferisce lo destabilizza lo destruttura e un'altra cosa che affloscia l'ego del narcisista come uno spillo che buca il palloncino dell'ego del narcisista è la frase io non ho tempo per te non ho tempo per te è inutile che stiamo qui a perdere tempo non ho tempo per te altra frase che ti suggerisco veramente di utilizzare con il narcisista un'altra fase molto importante ma tu non sei mica intelligente non sei molto intelligente ecco questo lo manda in tilt lo manda in tilt gli fa ribollire il sangue perché il narcisista quello che vuole essere considerata una persona considerato una persona intelligente considerato superiore agli altri e quindi dirgli che lui non soltanto non è superiore agli altri ma è proprio un coglione diciamo così no è proprio una persona poco intelligente questo lo destabilizza lo destruttura perché non riesce a capire come mai come è possibile che che qualcuno insomma si renda conto di quello che nella sua parte più intima in realtà crede anche lui perché il narcisista il narcisismo è soltanto un meccanismo difesa che cerca di preservare che cerca di preservare appunto la persona dal fatto che non si considera intelligente non si considera sufficientemente forte non si considera sufficientemente valido questo è un po il discorso che deve tenere presente con i narcisisti e quindi in momento in cui tu gli dici guarda che tu non sei intelligente come se andassi a diciamo a far rivivere questi turbamenti a far rivivere queste questi timori a far rivivere queste ansie queste preoccupazioni queste angosce e quindi lo mandi letteralmente in tilt gli dai veramente il colpo di grazia fondamentalmente ecco usa queste sei frasi utilizzare con una comunicazione non verbale sorridente in modo tale da sdrammatizzare tutto ma per lui a lui fare vivere un grande dramma bene per questo video è tutto seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale intanto iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video poi ti dicevo seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale seguimi su tik tok e e Ehm...